Ciao, io sono Matteo Dell'Acqua e sono un professore di genetica agraria qui alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Insieme ad altri docenti della scuola e insieme a collaboratori internazionali abbiamo deciso di creare una seasonal school che abbiamo chiamato AgriDev e che tratterà le tematiche dello sviluppo dell'agricoltura in un mondo che ci vede affrontare le difficoltà che il cambiamento climatico ci impone e anche delle dinamiche di cambiamento della società che giorno dopo giorno impongono lo sviluppo di nuovi approcci interdisciplinari, transdisciplinari che permettano di studiare queste dinamiche nel modo più ampio possibile. In questa seasonal school quello che faremo sarà trovarci insieme e discutere con esperti che vengono dalle discipline più disparate quindi dalla scienza del clima all'economia alla genetica agraria alle scienze agronomiche e tutti insieme cercare di costruire una narrazione una interpretazione di questa realtà che cambia molto velocemente e che ci permetta di comprendere quali sono le dinamiche in atto soprattutto nel cambiamenti che affronta l'agricoltura dei pesi del sud del mondo. In questa seasonal school cercheremo di tracciare una linea che colleghi il cambiamento climatico parlando con scienziati dell'atmosfera, con i modelli di sviluppo agricolo sostenibile, con gli approcci di miglioramento genetico e con infine approcci microeconomici e socioeconomici volti allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Passeremo insieme cinque giorni molto intensi qua a Pisa e lo faremo in compagnia di docenti di grande statura internazionale e ricercatori di centri di ricerca internazionale che si occupano di queste tematiche con approcci estremamente innovativi e rivoluzionali per certi versi.